Amiche e amici di Termoli Online, ben ritrovati. Oggi è venerdì e come di consueto alle 18.30 abbiamo il nostro appuntamento in diretta live Io Scelgo Termoli. Puntata finale con questo format per questo periodo. Abbiamo in mente qualcosa di diverso per il prossimo futuro e ne parleremo sicuramente insieme a voi. Come dicevo, un gran finale e grandi ospiti come di consueto a Io Scelgo Termoli. Partiremo come sempre con il sindaco Francesco Roberti e dopo avremo altri ospiti. Ospiti che operano nel settore, in un settore molto importante per la nostra comunità, ossia quello del food and drinks. Avremo infatti Pulcherio Scutti della Quercia, Fernando Lafratta di Birro Officina, Luciana Pertosa, caffetteria Malisi, Alessio Di Giuseppe, del Victor e Pasquale Russo, della Sacristia. Cosa dire, un appuntamento sicuramente da non mancare perché è l'ultimo di questa stagione, chiamato appunto Gran Finale e come sempre vi aspettiamo in diretta alle 18.30 su Termoli Online, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. A dopo!